Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi video molto speciale perché scopriremo assieme la nuova linea di bracciali play together di Two Jewels e perché si chiamano play together? Perché si creano questi bracciali seguendo un gioco che si trova all'interno di questo libro è molto divertente, adesso vi faccio vedere come fare, lo faremo assieme in particolare questi gioielli mi hanno colpito molto e ci tengo un po' a spiegarvi appunto come mai mi sono piaciuti così tanto perché ci sono diversi temi e ognuno di questi temi ha un messaggio molto importante e anche a volte profondo e quindi ho voluto scegliere personalmente, adesso vedrete, sceglieremo assieme il tema messaggi d'amore e in particolare messaggi d'amore verso se stessi perché si tende sempre a pensare che appunto l'amore sia soltanto verso gli altri che è una cosa meravigliosa e bellissima ma prima di riuscire ad amare gli altri dobbiamo amare noi stessi e a volte vi parlo di questo tema ed è un tema che appunto a me sta molto a cuore perché prima di riuscire ad amare gli altri dobbiamo riuscire ad amare noi stessi e dobbiamo riuscire a mettere noi stessi al primo posto perché se siete come me io non ci sono mai riuscita, sto imparando piano piano perché altrimenti rischiamo di dare tanto e fare tanto per gli altri però di ritrovarci poi noi senza energie quindi questo è un messaggio che io voglio passare sempre sul mio canale anche alle nuove generazioni che mi seguono per far capire loro che prima bisogna mettere se stessi al primo posto imparare appunto a rispettare noi stessi in modo da riuscire ad amare poi gli altri quindi voglio appunto iniziare con voi questo gioco e andiamo a creare il nostro bracciale devo dire che sono molto curiosa di iniziare questo gioco perché so il tema che voglio so come funziona ma non ho ancora provato e quindi voglio iniziare con voi eccoci qui ragazzi questo è il nostro libro appunto Play Together di Two Jewels mi piace che sia tutto rosa ma iniziamo perché sono molto curiosa di appunto giocare un libro un gioco un viaggio un'esperienza unica giochiamo insieme ok qui possiamo già vedere come si compone il nostro bracciale perché appunto costituito da due metà una metà ha un simbolo l'altra metà ha invece un messaggio e appunto andando ad unire le due metà abbiamo il nostro bracciale Play Together rispondi alle domande scegli un simbolo abbina un messaggio crea il tuo bracciale ready to play iniziamo subito qui possiamo scegliere vuoi farti un regalo o vuoi fare un regalo a una persona speciale quindi se vogliamo fare un regalo andiamo a pagina 11 io voglio fare un regalo a me stessa quindi andiamo a pagina 9 il regalo è per me scegli il tema del tuo bracciale e qui possiamo scegliere appunto il tema che vogliamo dare al nostro bracciale in questo caso appunto come vi dicevo scelgo messaggi d'amore e quindi andiamo direttamente a pagina 13 ed eccoci qua questa è la pagina messaggi d'amore qui ci sono tutti i vari simboli appunto di questa categoria ci sono i cuori questo mi piace moltissimo abbiamo l'infinito cupido lucchetto puzzle stella insomma ci sono la luna che era il mio simbolo quando ero all'asilo è un particolare significato per me albero della vita e le iniziali anche queste sono molto belle io in questo caso scelgo i cuori questi due cuoricini e quindi andiamo direttamente a pagina 39 ed eccoci sulla pagina del messaggio invece appunto una metà del bracciale già l'abbiamo scelta e sono è il simbolo dei cuori l'altra metà andiamo a sceglierla adesso abbiamo you are special life is better together love is the key of happiness poi abbiamo il mio cuore perfetto perché dentro ci sei tu e love of my life io direi ragazzi che in questo caso appunto andiamo a scegliere love is the key of happiness che può essere anche il self love e quindi adesso abbiamo le due metà questa e questa e possiamo comporre il nostro bracciale ed eccola qui la nostra scatolina di to juice andiamo a scoprire il bracciale che abbiamo creato ed eccolo qui il nostro bracciale da una parte c'è il messaggio che abbiamo scelto e dall'altra c'è invece il simbolo adesso molto semplicemente andiamo a comporre il nostro bracciale molto semplice andiamo semplicemente ad unire le due metà in questo modo ed il nostro bracciale è pronto ed è anche regolabile appunto su qualsiasi su qualsiasi misura ed eccolo qui il nostro bracciale indossato ragazzi sono molto fortunata perché to juice mi ha mandato anche degli altri simboli e degli altri messaggi in modo da creare altri bracciali qui ad esempio c'è il simbolo appunto dell'infinito che mi piaceva un sacco però sono molto eleganti e qui invece c'è il nostro messaggio questo è you are special quindi vado a creare il mio bracciale eccoli qua i due bracciali indossati io vi lascerò qua sotto nel box informazioni il link al sito to juice perché sul sito potete fare lo stesso gioco che ho fatto io con il libro per creare il vostro bracciale e poi andate a ritirarlo direttamente in gioielleria quindi questo è quanto per il video di oggi spero vi sia piaciuto mia family io vi mando un bacio grandissimo come sempre vi abbraccio fortissimissimissimissimissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video alle 17.30 ma ciao